L'industriale più antico d'Italia, tra l'altro nasce con una donazione e nasce, se ho ben capito, come opera pia, cioè all'inizio per l'assistenza agli orfani, poi piano piano grazie a donazioni, grazie all'impegno del territorio è diventata un'eccellenza in tanti campi e l'inaugurazione di oggi conferma ed esalta questa eccellenza piano della chimica dai più avanzati al mondo e una nuova opportunità per l'istituto e per il territorio, quindi fa molto piacere aver avuto questa occasione e aver constatato che c'è una grandissima professionalità, voglia di fare in un grandissimo protagonismo di donne in questo territorio perché abbiamo la prefetta, la direttrice, la professoressa, insomma, c'è anche un maschietto che ci mette i soldi, che è utile, quindi complimenti davvero, tanti auguri.